Ciao, sono a Strasburgo per la plenaria e quindi già che ora in Francia ho detto andiamo a fare un giro nei supermercati a vedere a che punto siamo con il Nutri-Score. Qui siamo in una nota catena di supermercati francesi, vi faccio vedere un po' di prodotti. Allora, pasta falsamente italiana, lettera A e bollino verde, cioè è molto buona la pasta precotta, se la mangiare i francesi. Poi abbiamo cocktail, insomma una roba da fare per gli aperitivi, con mandorle, noccioline super salate, all'aroma chili, quindi diciamo pieno di arome. Questo è buono ancora, bollino verde, lettera B. Andiamo avanti con le schifezze, no? Le patatine, le chips, le chips, Nutri-Score verde, lettera B. Andiamo a vedere però, scusatemi, delle scaglie di il nostro parmigiano reggiano. Guardate qua le nostre scaglie. Cosa saranno? Ma ovviamente di bollino rosso! Cioè, ma veramente dall'Europa vogliono imporci prodotti schifezza al posto delle nostre eccellenze. noi continueremo la nostra battaglia.